La misericordia di Arezzo può guardare con fiducia e anche con prospettiva al futuro. Perché? Perché ha una struttura solita, economicamente e in maniera organizzativa. Ha un magistrato fatto da rettori validi. Insomma, abbiamo creato una struttura adeguata per guardare al futuro. Si chiude un anno ed è un momento di bilancio anche per la misericordia di Arezzo. È stato tracciato nella sede a Retina alla presenza del suo governatore e del presidente nazionale Domenico Gianni. È un servizio che viene svolto per la città, nella città, con la città, come ci ha detto il governatore. È una presenza costante non solo ai servizi di emergenza, ma quelli alla popolazione, i servizi sociali, i servizi di prossimità, l'attenzione ai fragili, agli ultimi. Quindi un grande patrimonio di cui dobbiamo essere fieri, ma di cui anche le istituzioni si devono sentire responsabili. Cioè le organizzazioni di volontariato, e io qui saluto anche le altre organizzazioni cittadine, come le nostre consorelle, la Croce Bianca e la Croce Rossa, sono questo patrimonio di questa gente, di questo popolo a servizio del popolo. Sono gente a servizio della gente. Sempre presenti e attenti ai bisogni della popolazione, la misericordia di Arezzo guarda avanti e ai progetti futuri. C'è una sede storica che rimane questa in via Garibaldi, con la chiesa che procederemo al restauro, e che invito tutti coloro che mi ascoltano ad adottare questa chiesa, perché è la chiesa delle famiglie aretine. Siamo tutti passati da questa chiesa. Deve essere più accogliente, più luminosa. E il progetto è già pronto. Poi apriremo una struttura socio-sanitaria in via Tarlati, nella zona della Catona, dove non c'è mai stata un'attività sanitaria, e apriremo noi, e apriremo una struttura anche destinata agli anziani autosufficienti e all'attività sanitaria. E infine una nuova ristrutturazione della collocazione delle autoambulanze nella zona pescaiola, vicino all'ospedale. Insomma, un quadro robusto, di prospettiva e di grande sostegno alla comunità di Arezzo. Io davvero non faccio mai critiche, faccio appelli. Quindi l'appello alla politica è quello di farsi carico di queste tematiche.